Semplice, comoda e pratica, ecco la casa di Mark Zuckerberg. Il creatore di Facebook vive a Palo Alto, in California, e la sua casa è caratterizzata dalle comodità rispetto agli sfarsi. Il salotto è ampio, spazioso e molto luminoso grazie alla presenza di numerose vetrate. L'ambiente è caratterizzato da toni chiari, come le pareti, e una coppia di poltrone che fanno da contrasto al divano scuro e al grosso tavolino in legno sul quale sono disposte due candele rosse e un piccolo mazzo di fiori. La cucina è piuttosto semplice, dall'arredamento classico. I mobili sono di colore verde, si può notare sullo sfondo una grande credenza che contiene svariati bicchieri, mentre al centro della sala vi è una grande isola con un piano marmoreo, perfetto per cucinare e creare diversi piatti. In un'altra area della casa è possibile notare un grosso schermo alle pareti, in questo caso si tratta di una sala dai toni scuri e con mobili color legno, eccezione fatta per le poltrone reclinabili bianche. Il bagno è molto luminoso e caratterizzato dal bianco, il colore delle piastrelle e della vasca, utilizzato anche da Beast, il piccolo cagnolino di casa Zuckerberg. Nello studio invece vi è un grosso divano decisamente comodo, come dimostra l'immagine dello stesso Beast pubblicata su Instagram dal creatore di Facebook. In casa c'è anche un ripostiglio dotato di vari strumenti per la pulizia, utilizzati anche dal piccolo amichetto quattro zampe di Zuckerberg per mimetizzarsi.